Ciao a tutti ragazzi, oggi c'è un nuovo video, oggi siamo arrivati al livello 5 e apriremo due casse Iris, tu apri tu la prima Apri prima questa qua, dai Tu apri tu la legge e il pacchetto Una cassa Una cassa La canove no Per uno, va bene Ok Sì, nuova, nuova super rara Vai, vai con l'ultima Ok, una di sei, raga Nuova skin super rara Cioè tra l'altro io ho due skin comuni e due skin super rari Ancora non ho sboccato un'altra comune Cioè, what, cosa Ragazzi, nuova skin Nuova skin, vado apri un attimo Io invece apri questa Vabbè, vado io Arrivo Altra Oh, nuovo ballo raga Iris Nuovo ballo Nuovo ballo Vediamo quale è questo ballo raga Le settore statistiche Le emozioni Vediamo E vediamo Grove Figo Girire Girire Troran Oh No O No 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 no